ragazzi oggi siamo ai quattro mori questi sono quattro mori sono quattro mori di livorno guardate che belli sono incatenati comunque è stupendo raga guardate che belli raga mi raccomando lasciate like condividete questo video ovunque mi raumando boia de tanta roba de quattro mori frappolino diventano cinque perché mi ci aggiungono anche a me boia de oh aggiungimi eh quattro moro ok mi ci aggiungono anche a me vedi me l'hanno detto ecco qua questo sono i quattro mori la storia dei fenninando dei medici bellissimi raga